ciao a tutti sono piero berbeni di scott responsabile prodotto oggi vi presentiamo la collezione scott per il 2022 2023 partiamo ovviamente dai nostri cavalli di battaglia famiglia sci super guide nelle tre larghezze classiche 88 uomo 95 uomo donna e fino arrivare al modello free tour con la larghezza 105 sotto il piede le strutture super guide rimangono invariate quindi costruzione in legno di paulogna con aggiunta di carbonio longitudinale dalla punta alla coda e titan al nella zona attacchi nuovo modello per la collezione 22 23 il nostro leggero pro guide nella larghezza 89 abbiamo anche la larghezza 96 che in questo momento è fuori per dei test uno sci appunto pensato sicuramente per fare maggiore dislivello in salita e una costruzione molto simile a quella del super guide ma leggermente alleggerita arriviamo poi a un'altra novità della collezione scott la famiglia pure famiglia pure quindi mondo free touring free ride in particolare oggi vi faccio vedere il modello pure mission nella larghezza 98 mm sotto il piede uno sci con rocker accentuato in punta e un buon quantitativo di rocker anche in coda costruzione sempre sandwich paulogna più faggio le qualità del legno e carbonio longitudinale dalla punta alla coda uno sci di un chilo e 6 nella misura 177 consigliato con un montaggio sempre leggero noi consigliamo a tk a pa a a a a a a a a Grazie a tutti.